Ciao amici, in questo video parliamo di Perché non eravamo pronti, il libro di David Quammen, edito da Adelphi, la casa editrice del buon Calasso, microgrammi per il prezzo irrisorio di 5 euro. Chi è David Quammen lo sapete tutti, autore di Spillover. In questo libro sono raccolti due dei suoi articoli che sono comparsi sul New Yorker nel 2020. Il New Yorker è un giornale, una rivista, per la quale scrive anche Kevin, il marito del capitano Raymond Holt. Questi due articoli sono una sorta di appendice, infatti chissà che in futuro non usciranno, al libro Spillover. Quindi potete leggerli se non l'avete letto al libro, sì, però sono scritti appositamente per essere lì inseriti, perché proseguono un po' il discorso che era già iniziato qualche anno prima. Com'è diviso questo libro? Allora, è diviso in due articoli, come vi dicevo, nel primo si parla del perché non eravamo pronti, quindi del perché il mondo ha affrontato in una maniera sbagliata il Covid, quale cose sono andate storte, perché è stato sottovalutato. Secondo me però questo articolo non è particolarmente completo, mancano alcune informazioni che poi, forse nel 2020 non c'erano ancora, però ho analisi più che altro, cioè sulle differenze sostanziali tra la SARS e il SARS-CoV-2, quindi il Covid, il virus che causa la malattia del Covid, diciamo così. Sono virus molto diversi ed ci sono motivi molto importanti dal punto di vista epidemiologico per il quale, è infettivologico se volete, per il quale una malattia è sfuggita, mentre un'altra no. Adesso poi si potrebbero anche approfondire. Molti altri l'hanno fatto prima di me, quindi guardate assolutamente i loro video. La seconda parte invece parla di un'altra cosa a cui qua me ne è molto interessato, cioè il passaggio appunto dagli animali all'uomo, dove è avvenuto, quali sono gli sviluppi più importanti. Questo invece è assolutamente in tema, è molto importante, anche perché sapete che durante un'epidemia molti animali vengono uccisi perché si pensa siano il serbatoio naturale della malattia, ma di solito non ci prendono mai perché la storia è molto più complicata di come ve la racconta un giornale qualsiasi, va bene. Comunque sia. È consigliato questo libro? Sì, assolutamente sì, compratelo, 5 euro. Ci sono altri libri di questa collana interessanti, ce n'è uno di Carlo Emilio Gadda, ce n'è uno di Borges, sono 7 in totale, costano pochissimo, leggeteli, sono un centinaio di pagine. Però vorrei soffermarmi un po' a fare una critica, anzi due, a Quammen, che, diciamo, costruttive, voi leggetelo in maniera critica, soprattutto il primo articolo. Perché sembra non proprio imparziale, nel senso, dà molto contro all'America, giustamente, anche perché è Quammen americano, tutto quello che volete, non ha affrontato bene la pandemia, siamo assolutamente d'accordo. Però sembra quasi giustificare, invece, il comportamento cinese, dicendo che loro sono stati bravissimi, diciamo, per lo sviluppo, poi, degli eventi, che forse nel 2020 ancora non si sapeva questa cosa, cioè, non era chiaro, ma, insomma, stare lì a difendere la Cina mi sembra un po' strano. Comunque sia. Quindi, questa è la prima piccola critica. La seconda, invece, è la stessa che facevo a Spillover, ed è Il moto di scrivere, di Quammen, che è un bel po' pesante, perché utilizza una tecnica narrativa di soffermarsi su dettagli totalmente inutili per ogni persona che incontra, e adesso, dopo, vi leggo un piccolo estratto nel quale capite cosa intendo, che, secondo me, rendono la lettura davvero poco ergonomica, ok? È pesante, perché prima di arrivare al succo del discorso, cioè, il succo del discorso sono magari tre informazioni, ma spalmate in venti pagine di informazioni sulla vita, la storia e i miracoli. È un po' pesante. Comunque sia, poi, le informazioni contenute sono sicuramente interessanti, quindi alla fine vale la pena leggerlo, sì, però, ecco, non mi piace il suo stile così pesante. Vorrei fare, invece, una riflessione ultima, perché, leggendo questo libro, una parte è ambientata nel 2004, quindi dopo la SARS, insomma, quel periodo lì, e ho pensato proprio così. Mentre le leggevo, dicevo, eh, ma quante cose sono cambiate dal 2004? Cioè, Wikipedia aveva tre anni, alcune persone che magari stanno vedendo questo video ancora non erano nate, tutto quello che volete, l'euro c'era da solo due anni, i governi berlusconi a piovere, ok, non so, la tecnologia era diversa, molto meno potente i computer, la grafica, i film avevano una grafica peggiore, però le cose importanti non sono cambiate. Cioè, il modo di raccontare le storie non è cambiato, il modo in cui la gente muore non è cambiato, magari si è un pochino modificato, ma morivamo nel 2004, moriamo ancora oggi per più o meno gli stessi motivi, quindi la fragilità umana non è cambiata da quel punto di vista, la gente continua a odiarsi, la gente continua a uccidersi, continua a litigare, e alla fine l'uomo è incorreggibile. Abbiamo all'interno questa spinta vitale verso l'autodistruzione. Niente, ho leggendo questo libro, ho pensato a questa cosa e l'ho condivisa con voi. Ora vi leggo un piccolo estratto del libro. Dal capitolo 1 parliamo del dottor Khan, che era capo del CDC durante l'epidemia di SARS. Notate quello che vi dicevo prima del stile di Quamene. L'arredamento eclettico del suo attuale ufficio comprende micrografie elettroniche di vari patogeni appesi al muro, come una serie di fotografie segnaletiche. Due sculture di zanzare grandi quanto corvi, un orologio di guerre stellari, un robottino giocattolo di Big Hero 6, cartoline spedite da bambini di tutto il mondo, souvenir e regali dei suoi viaggi, un incensiere congolese, la sciabola da decapitazione, e una lavagna su cui riporta quelle che definisce le mie metriche, le sue preziose metriche, misure del progresso nel raggiungimento di obiettivi accademici per la sua facoltà, di obiettivi scientifici, di obiettivi filantropici per sovvenzionare il lavoro. Ho un approccio basato sulle evidenze e guidato dalle evidenze, dice. Ho chiesto a Khan del Covid-19 che cosa è andato rovinosamente storto, cosa ne è stato della preparazione della sanità pubblica che aveva supervisionato al CDC? Khan era appunto supervisore del CDC durante l'epidemia di SARS. Perché la maggior parte dei paesi, e in particolar modo gli Stati Uniti, era così impreparata? Per una mancanza di informazione scientifica o di soldi? Per una mancanza di immaginazione, ha detto. Grazie. Grazie. Grazie.